La vita scolastica è centrale, centrale per i bambini, per i bambini, i ragazzi e le ragazze e il tempo scuola è un tempo di vita. Il momento della ristorazione è fondamentale per vari motivi, innanzitutto da un punto di vista sociale, perché i bambini e i ragazzi stanno insieme agli altri. Quindi il cibo è un momento di aggregazione, è il momento del cibo e soprattutto è un momento in cui loro apprendono qualche cosa insieme agli altri. Lo stile di vita si apprende non tanto nella solitudine ma nel rapporto con gli altri, quindi il momento della ristorazione, il momento del refettorio, come si diceva, è essenziale. Quando a tavola c'è un buon cibo, il momento della socialità, il momento della condivisione, del pensare, del sentire diventa facilitato. Quindi dare un contributo alla ristorazione collettiva diventa un obbligo, un obbligo sociale, un obbligo culturale.